Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di Podcast Cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Exi abbeo immundi spiritus et da locum spiritus santo paracrito. Esce da lui spirito immondo e lascia il posto allo spirito santo consolatore. Così inizia la seconda parte del battesimo. Seconda parte questa in cui il sacerdote comincia a cacciare via lo spirito immondo, lo spirito diabolico che è alla radice del peccato originale. Dopo che il bambino ha accettato, ha voluto, ha desiderato e ha chiesto il battesimo, il sacerdote nell'autorità di Cristo comincia a cacciare via il demonio, a togliere il bambino dalla potestà dei demoni. Perché chi nasce, chi nasce, nasce col peccato originale, con la macchia del peccato originale. E in virtù del peccato originale, come conseguenza del peccato originale, il demonio ha un'autorità sull'anima. E allora il sacerdote, nell'autorità di Gesù Cristo, comanda allo spirito immondo di andare via e lasciar posto allo spirito santo consolatore. Guardate che bella, che bella preghiera, che ordine che fa nostro Signore per bocca del sacerdote. Esce da lui o da lei, spirito immondo, e lascia il posto allo spirito santo consolatore. La nostra anima è come una casa, è come un palazzo, è un tempio. E allora, prima del battesimo, chi occupa la nostra casa è lo spirito immondo. Lo spirito immondo occupa la nostra intelligenza, la nostra volontà, la nostra sensibilità, infine la nostra anima. Allora il sacerdote lo caccia via e quando il demonio va via, la nostra casa non rimane vuota. La nostra anima, che è come un palazzo, una casa, non è mai vuota. E dobbiamo ricordare questo. Nella nostra anima o ci sarà lo spirito immondo o ci sarà lo spirito santo consolatore. Vuota non sarà mai. E allora, con il battesimo, noi vogliamo cacciare via lo spirito immondo perché vogliamo che a posto suo ci sia lo spirito santo consolatore, spirito e santo paraclito, e che poi lo spirito santo resti, rimanga per sempre nella nostra anima. E' vero che lo spirito immondo è un usurpatore. L'anima nostra, la casa della nostra anima, non appartiene a lui. Lui è un ladro. Si è intruffolato dentro la nostra anima con l'ingano del peccato, però veramente ha preso possesso della nostra anima quel peccato originale. Allora il battesimo caccia via questo ingiusto occupatore della nostra anima e fa tornare il vero padrone, il vero signore, il vero re della nostra anima che è lo spirito santo consolatore. Poi il sacerdote fa un segno di croce sulla fronte e sul petto del bambino. E' mediante la passione e morte di croce di Cristo che noi siamo liberati dalla potestà dei demoni e mediante la croce di Cristo, la croce di Cristo ha meritato per noi la visita dello spirito santo paraclito per cui il sacerdote fa il segno di croce sulla fronte e sul petto, sull'intelletto e sul cuore, sul nostro intelletto, sulla nostra ragione perché noi dobbiamo credere e quindi è mediante la croce che siamo liberati dalla cecità dell'intelletto e il nostro intelletto deve credere la fede e innanzitutto è la verità che deve illuminare il nostro intelletto però anche il nostro cuore nel nostro cuore è necessario che ci sia la carità l'amore di Dio il demonio quel peccato originale ha obnobilato ha acceccato il nostro intelletto con la menzogna con l'errore e ha svuotato il nostro cuore ha seminato nel nostro cuore l'odio ha seminato nel nostro cuore i vizi capitali per cui noi riceviamo la croce la croce è liberazione la croce ci libera dall'errore dalla cecità del nostro intelletto e ci libera dell'odio dai vizi capitali e ci dà la carità il sacerdote dice ricevi il segno di croce tanto sulla fronte quanto nel cuore accogli la fede dei divini precetti e nei costumi cioè nella carità nel modo di vivere sii tale da poter già essere tempio di Dio ah cari bambini la nostra anima il nostro corpo è tempio di Dio tempio vuol dire un luogo sacro vuol dire dimora divina tempio di Dio dove Dio fa la sua dimora dove c'è la presenza del Padre del Figlio dello Spirito Santo degli Angeli della Madonna dei Santi tempio di Dio e poi il sacerdote fa una preghiera preces nostra squesimos Domine ascolta clemente o Signore le nostre preghiere e custodisce con perenni virtù questo tuo eletto che abbiamo contrassegnato con la croce del Signore onde conservando i primi elementi della grandezza di tua gloria osservando i tuoi precetti meriti di giungere dove alla gloria della rigenerazione per Cristo nostro Signore poi il sacerdote posa la mano sulla testa del bambino e lo mette così sotto la protezione della Chiesa come Gesù durante la sua vita mortale imponeva le mani faceva così imponeva le mani sui malati e guariva i malati l'anima è malatta col peccato originale che è una ferita alla nostra anima quindi il sacerdote con questo gesto vuole guarire vuole purificare l'anima dal peccato originale Dio onipotente ed eterno Padre di nostro Signore Gesù Cristo degnati di riguardare su questo tuo servo e dice il nome che ti degnasti chiamare i primi elementi della fede scaccia da lui ogni cecità di cuore spezza tutti i legami con cui fu legato da Satana aprigli o Signore la porta della tua pietà onde pervaso dal segno della tua sapienza vada immune dalle sozzure di onico piligia sì che correndo dietro l'odore dei tuoi precetti lietto ti serva nella tua chiesa e faccia progresso nel bene di giorno in giorno per lo stesso Cristo nostro Signore Amen Allora nella prossima puntata vedremo come il sacerdote dà al bambino il sale da mangiare e che significa il sale se l'ho dato Gesù Cristo oggi c'è Radio Romalibera punto org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera punto org per saperne per saperne per saperne